Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo episodio della nostra serie survival Allora ragazzi miei, benvenuti in questa nuova puntata Ho fatto un po' di test per quanto riguarda le mie bellissime chest E ho solo aggiunto un punto cruciale Ovvero, per ora, il problema essenziale è che era mettere due chest insieme, una sopra l'altra E poi cercare anche di renderlo abbastanza carino con il pavimento Era una cosa impossibile da fare Quindi, che ho pensato di fare? Ho pensato di fare due diversi tipi di apertura, chiusura delle mie bellissime chest Ho messo, in questo caso, una chest davanti e una chest dietro E diciamo che questi sono dei normali scalini stabili Ok, questi non si spostano Mentre questi qua che avete a lato e questi qua si muovono in questa maniera Vi faccio vedere Tac Ora, non so se l'avete visto in modo figo Guardate qua Tac In questa maniera Cosicché io posso aprire questa chest e posso aprire anche questa chest quando voglio Ma sembra quasi una chiusura ermetica in modo figo Però quasi sono delle scalini Messe al contrario, ma sono delle scalini Quindi, a mio parere, questa dovrebbe essere più o meno l'idea geniale che mi è venuta Per risolvere il problema sostanziale delle due chest Perché volevo comunque averne due Perché una non basta Ok? Per niente Quindi ho preferito fare in questa maniera E per ora sembra funzionare abbastanza bene Però quanto riguarda l'impulso di Leilson E comunque anche il circuito di Leilson Non è per niente difficile Anzi è una cazzata da fare Vi faccio vedere Basta mettere due piccoli repeater qua Che ovviamente azionano i pistoni qui sotto Che portano sopra i nostri bellissimi e fantastici scalini Qua fa la stessa cosa da un lato e dall'altro Perché qui dietro ci sono dei pistoni Non so se riuscite a vederli Non credo E ve li faccio vedere se faccio così Bam, eccolo qua il pistone È un pistone appiccicoso ovviamente Perché se no non si muoverebbero E da dietro ci sono dei repeater che danno l'azione Qui tipo sta da questo lato se non sbaglio Eccolo qua Ovviamente sono tutti impostati come tick 1 Quindi tutto tranquillo Tick 0 Beh in realtà comunque è il primo tick in sostanza E adesso dovremmo capire quale dei due sia migliore Ovviamente anche da questo lato fa la stessa cosa Solamente che di qua A proposito qui adesso è un po' stupida come cosa Perché devo un attimo sistemare Vi faccio vedere Di qua l'unico problema è che In sostanza non fa più o meno questa cosa Perché va soltanto a chiudere le due cose In questo modo E abbiamo stato una cesta Quindi poi sta a voi decidere un po' quale sia la migliore Ma a mio parere per quello che continueremo a fare oggi Prendono queste tipologie di cose Questa è quella più completa Ma soprattutto quella che ha più spazio rispetto a questa E poi niente continueremo a fare la nostra caverna Fin dove arriveremo Ho preso anche un piccone con sick touch Perché stiamo sistemando anche un po' la glowstone E ho pensato che la glowstone dovrebbe andare qui Tranquillamente per illuminare un po' tutto Mentre a questo lato ho messo tutti i stone bricks Come giusto che sia Perché se no Insomma Creiamo problemi Devo un attimo chiudere lì Se riesco Non so come chiudere dietro Quindi sarà una bella cosa Comunque proviamo a farne 5 o 6 di queste cose E poi vi faccio vedere un po' come Diciamo l'esempio pratico Allora per ora ho fatto in questa maniera Ovvero ho unito un attimo questi due Per vedere un attimo se funziona tutto quanto E ora voglio un attimo vedere se tutto va bene E qui non va perché avviate l'impulso di elston Al contrario Quindi devo anche capire poi come impostare l'impulso di elston Ma in realtà dovrebbe funzionare Quindi più o meno avete questo caso Questa è la roba che c'è dietro E non è per niente difficile da capire Cioè nel senso È davvero una cosa facilissima E da fare E anche da capire Perché non è per niente complicato Insisto È davvero una stronzata Ma una stronzata che è fatta davvero molto bene Perché tipo L'intento iniziale era giusto Però non funzionava bene Quello che avevamo in mente Mentre questo Direi che è tutto più figo e più bello Ora devo tanto capire come sistemare questi lati Ma non dovrebbe essere un problema Che basta fare così e così E il problema è finito Ovviamente magari se riusciamo a mettere anche questi due qui dietro Risoliamo il problema finale Perfetto Vediamo un po' come va Ok chiusura chiusura Ovviamente la luce passa comunque Perché ci sono tutte le cose di luce Qua devo un attimo non aprire questo blocco Perché non ci ritrava niente Devo mettere questo Qui stessa cosa ha funzionato bene E qui devo tanto cambiare Credo questo Qui sopra E piazzarci questo brick E anche questo brick Sì Ok Bene Direi che funziona per il momento per questi due Devo continuare a fare ovviamente questa cosa Per gli altri posti che andremo a fare Ovviamente questa cosa ci dà Un piccolo unico problema Al momento Ho sentito dei mob Ho sentito qualcosa che si muoveva Il fatto che dobbiamo comunque Tenere conto che dei pistoni Devono avere un certo spazio Per potersi muovere Quindi Che significa questa cosa Significa che Non posso fare tutto Ogni volta In un certo modo Quindi ho bisogno di un po' di spazio Per poter Diciamo spaziare Tra una cesta e l'altra Ora vi faccio vedere In realtà In modo pratico Cosa significa Allora ragazzi Scusatevi per il rumore sottofondo Ma stanno facendo dei lavori A parte questo Vedete che più o meno Questo è quello che vi dicevo Per quanto riguarda la grandezza Tipo sono quattro blocchi Per forza Di distanza Dalla parte all'altra Anche perché Come potete vedere Non è proprio Fattibilissimo Al certo per cento Farlo in un certo modo Sto cosa Perché comunque Vedete Ho bisogno di spazio Tanto spazio Ma soprattutto Ho bisogno Anche di Capire bene Come strutturare la cosa Ma per esempio Al centro potrei comunque Sempre piazzarci altro Non è un problema Questi due al centro Sono giusto per decorazione Potrei mettere C'è che ne so Della legna Se proprio volessi E ci sarebbe anche Tanto bene Potrei fare una cosa Un po' più carina Tipo Però non so se Potrei farla Vediamo un po' Potrebbe uscire una cosa Bastata carina Però non sono sicuro E no Perché giustamente Rimane Così Rimane Niente scherzavo Non si può fare Oddio beh Il design non è male Non è proprio Quello che mi aspettavo Però più o meno L'idea è questa Allora Devo un attimo scoprire Dove sta Velocemente quella roba Ovvero l'ultima L'ultimo pezzettino di reddito Che ho infilato qua Ora lo faccio un attimo Arrivare fino qui Giusto perché Voglio far funzionare le cose E vediamo un po' come va Ok Questo si apre Quello perché non si apre C'è qualche problema Probabilmente dovuto al fatto Che Ciò ripeterà il contrario Ma È una cosa che non posso Risolvere Quello Anche perché L'ho fatto a questo parte E non so Il meccanismo sarà da quel lato Quindi Devo per forza Fare in questa maniera E per ora Per ora facciamo così Per ora Cerchiamo un attimo Di fare In questa maniera Oddio Qua ha rotto qualcosa Azz Qui ha rotto qualcosa Non è che si era proprio Di sotto qualcosa No C'era proprio rotto Il piccolo amico qua Ok Andiamo un po' se faccio così Ok Ovviamente Ah qui Vabbè manca la redstone Ah Questo lo sapevamo Perfetto Qui non si accende Perché il repeater Sta al contrario Ma tutto tranquillo Abbiamo già Sappiamo già questa cosa Ok ragazzi Allora Vediamo un po' come va Si dovrebbero essere aperti tutti Cioè chiusi tutti E questa è l'idea centrale Finale Lì Vanno bene i blocchi In sostanza Perché si sono mosse Spettate Oddio c'è qualcosa che non va In realtà in questa maniera E Sì No ok ok È giusto È giusto Va bene Quindi questo era In sostanza il meccanismo Che c'è dietro La nostra Piccola Cosa Ho sbagliato Ho sbagliato ragazzi Perché questi qua Dovrebbero stare un po' più avanti E il problema dell'illuminazione In realtà quello è dovuto Al fatto che fa schifo Minecraft Tranquilli Dovrebbe risolversi In teoria Cambiando qualcosa Comunque Questo è il meccanismo Devo continuare a farne altri Sì Ovviamente Perché voglio Fare tante chest Quanti sono gli itemi Minecraft Questo significa che Dovrò fare una stanzina Che va Trammi due lati E mi permetta di Modificare al meglio Le mie costruzioni Ovviamente Perché insisto Non è proprio una cosa facilissima da fare Più che altro Ci vorrei davvero Quintali Quintali di redstone Per poter Implementare questa cosa Nel mio magazzino Ma Insomma Mi piace Modificare qualcosa E comunque Pensare a qualcosa di nuovo E di diverso Magari un po' diverso Dagli altri youtuber Perché Come avete detto Che qualcuno Già aveva fatto quell'altra cosa Quindi Perché no Proviamo in questa maniera A fare così Qualcosa di decente E funzionale Per quanto riguarda il centro Ho pensato un'altra cosa Che potrebbe Risultare carina A mio parere E forse anche meglio Del laghetto Ovvero fare Una Non so bene Come chiamarla Dovrebbe essere Un mosaico Diciamo Proprio all'interno Del fossato Che andiamo a creare Nella mia città C'è una chiesa Di età Medievale Credo Si Doveva essere età medievale Che ha un grifone Tipo A mosaico Sotto La parte Diciamo Centrale della chiesa Perché c'erano due chiese Quindi la chiesa diciamo di sotto Che su cui poi è stata costruita Questa Questa altra chiesa Aveva sotto Un mosaico A forma di grifone Bene che è successo E che sostanza Hanno fatto un piccolo buco Si può vedere la testa di questo grifone Perché Il grifone poi È bello grandicello Però ci hanno fatto tanto Un buchetto Un buchetto Ma in realtà è un cerchio Dove esce questa cosa Più o meno l'idea È quella di fare In questa maniera Un fossato Anche perché siamo in altezza 75 Quindi comunque Diciamo lo spazio ce l'abbiamo Il problema è che Bisogna lavorarci molto E non è una cosa Che si fa in un episodio Quindi probabilmente Lo faremo in live Appena avrò la fibra ottica Lo sapete che sto Cercando di fare la fibra Di mettere la fibra ottica Nella mia città In realtà anche nella mia casa Quindi se volete Partecipare poi alla live Ovviamente Vi ricordo che trovate La live sul canale Non saranno registrate Ma probabilmente Prenderò qualche pezzetto Qualche pezzetto In sostanza E lo lascerò sul mio canale Così da poter Fare un video finale In cui dimostro Che ho creato la cosa Non l'ho fatta così a random Comunque Quella idea Geniale Però il problema È che non è proprio Fattibilissima al 100% Almeno non al momento Quindi sta a voi Un po' a decidere Se volete o no Questa cosa O se volete il fossato di acqua Anche perché la serie È comunque mia È vero Ma è anche Una serie Che voglio fare Insieme a voi Almeno Fin quando sarà possibile Quindi ragazzi Fate per sapere in commenti Cosa ne pensate Di queste due idee Soprattutto vi piace O no Questa disposizione delle chest Questo coso centrale qua Vi piace Oppure Mi fa Mi fa Un po' schifo Non capisco perché In realtà Non ho un pezzo di blocchi così Devo piazzarli così In questo caso Comunque Daolis è tutto Noi ci vediamo presto A un nuovissimo video E a nuovissima puntata In questa Diciamo Serie Fighissima Perché tutto riguarda Le costruzioni La serie survival Daolis è tutto Ciao ciao E alla prossima puntata Che cosa ho rotto qua Ho rotto qualcosa Ragazzi Ho rotto qualcosa Ah giusto Sono un idiota Perché Devo fare il giro E ora ho chiuso Tipo qui Sto coso Poter lasciarlo così Così non abbiamo nessun problema Perfetto Ciao ragazzi E alla prossima puntata Con le vostre Vissime chest Nascoste Yeah